arriva il 16 gennaio su sky atlantic e su now in streaming in esclusiva The Last of Us la serie oh ragazzi oh finalmente il videogioco il primo è uscito nel 2013 quindi ormai ben 10 anni fa e quindi 10 anni dopo mi sembra giusto che abbiano fatto finalmente l'adattamento seriale televisivo io non parlo più perché non volete sentire la mia voce volete sentire una voce che conta una voce che ci ha emozionato per anni e quindi faccio entrare subito l'ospite Lorenzo eccolo qui ciao ciao mi senti ciao Valentina mi senti ti sento un po' basso vediamo un po' vediamo sì intanto grazie che tu vieni da giornate pienissime sì un po' incasinate ci hai fatto proprio un favore quindi grazie infatti ci mancherebbe va meglio come livello? molto meglio molto meglio già dici ci mancherebbe io dico vabbè basta abbiamo fatto la live come lo dici tu è bellissimo allora 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 intanto domanda banalissima lo so ma te la devo fare visto che tu non soltanto hai doppiato appunto il personaggio di Joel che nella serie interpretato da Pedro Pascal nella serie appunto ma te lo porto avanti da tanto tempo perché hai doppiato entrambi i due videogiochi quindi com'è ritrovarlo adesso con una faccia diversa però? sì in effetti fa un certo effetto poi alla fin fine il personaggio è lo stesso l'idea di rientrare nei panni di Joel con un'altra faccia in realtà fa più effetto a pensarci in realtà che non poi alla prova dei fatti perché in realtà poi il carattere rispecchia quello del vecchio personaggio quindi alla fin fine veramente cambia molto poco infatti qua Error Forasti dice hai provato noi a ridoppiare la stessa cosa ecco così senza fare spoiler ci puoi dire esatto no no assolutamente no no anche perché si può dire che la serie è bellissima questo si può dire è molto molto bella quindi insomma no ma poi noia no insomma il mio lavoro non mi annoia mai eh sì allora lui ovviamente l'ha tutta doppiata io in realtà la serie già l'ho vista non possiamo fare spoiler però lo possiamo dire che effettivamente è bellissima vi metto anche il trailer così accanto a noi eh per gradire e eh ti volevo chiedere siccome tu eri venuto qui da noi eh un paio di anni fa e eh ci avevi detto che ehm appena avevi cominciato a vedere il gioco e a doppiarlo hai detto subito questo gioco spacca sì volevo chiederti se eh lo spacca è partito anche quando hai cominciato a doppiare i primi episodi della serie se ne sei accorto che era che era bella che era l'altezza sì devo stare attento e calibrare bene le risposte perché come sai non devo non devo tradirmi ed essendo un po' stanco potrebbe scappare qualcosa non voglio eh sì sì poi mh chiaramente ritrovando per forza di cose insomma eh tante situazioni già vissute in passato perché poi si sa che la serie quella che è la storia insomma di The Last of Us ehm la sensazione è che anche la trasposizione previsiva sia sia qualche cosa che come hai detto tu prima spaccherà io almeno me lo auguro insomma però è veramente veramente bella sì sì io confermo è bellissima e e soprattutto ecco secondo me non ha assolutamente tradito la il cuore insomma del del gioco che è il rapporto tra questi due personaggi incredibili io infatti ti volevo chiedere se intanto prima di addentrarci un po' di più nel nel rapporto appunto tra questi due che che è qualcosa di incredibile tu l'hai proprio vissuto perché eh doppiandolo è diventato tuo eh volevo chiederti se ti piacciono gli attori che hanno scelto poi per la serie perché all'inizio c'è stata un po' di polemica ah non gli somigliano secondo me sono perfetti poi però dimmelo tu ehm io credo che siano delle polemiche tra virgolette legittime nel senso che se tu eh ti innamori di un qualche cosa poi vuoi che venga come dire eh perpetuato l'estetica ehm ripetuto comunque passo passo tutte quelle che sono le vicende eccetera eccetera però è anche vero che tante volte cambiare non è per forza sinonimo di peggioramento e poi qui comunque nella scelta di quello che è stato l'attore che fa Joel credo che sia incisa anche molto la scelta del eh dell'attore che faceva Joel nel videogioco che non aveva se non ricordo male mi pare di aver letto che non avesse comunque eh intenzione di 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 interpretare di nuovo Joel nella trasposizione televisiva e quindi a un certo punto quando un attore sceglie di non mettere più i panni di un personaggio insomma non si può che accettare la scelta e cercare qualche cosa che sia la soluzione migliore che 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 possa comunque far felice il pubblico senza discostarsi troppo da quello che è l'originale insomma eh sì poi eh secondo me invece Petro Pascal ok e magari non non somiglia all'attore che è originale del gioco però è brevissimo ed è brevissima Bella Ramsey lei non posso dire molto ma mi è piaciuta tanto perché ci metti anche un po' di ironia in più rispetto diciamo alla Ellie del videogioco molto tosta mi è piaciuta parecchio e e ti volevo chiedere siccome ehm poi tu eh mentre doppiavi videogioco sei diventato cioè sei anche padre insomma quindi lo lo sai che cosa che cosa vuol dire ci avevi detto che aveva cambiato ovviamente questa cosa e adesso dopo tanti anni eh riprendendo la serie di essere padre quanto ti ha anche cambiato insomma nell'interpretazione ehm dunque il la questione della dell'aspetto dell'essere papà l'avevo toccato in maniera marginale eh perché mi ricordo che mi avevano fatto una specifica sulla scena il videogioco della morte della della figlia di Giovanni e mi ricordo che eh insomma l'avevamo incisa una volta perché era venuta l'emozione di quel momento era venuta insomma da sé non era stata ricercata in alcun modo ma era sgorgata naturalmente ehm mio figlio all'epoca era piccolo ehm devo dire che l'unica sostanziale differenza con allora che probabilmente adesso anzi certamente adesso la serie la guarderò insieme a lui perché comunque insomma è in un'età per cui e poi è un appassionato e quindi ha giocato al gioco anche se mi voleva con lui sul divano perché insomma ho paura e quindi vedremo anche la serie insieme che ti posso dire no non ci sono sostanziali di differenza insomma eh ripeto la 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 l'emozione la stessa l'approccio tutto sommato è stato il medesimo e proprio perché mh anche in questa versione tv insomma ritrovo tantissimi punti in comune con quello che è stato insomma il lavoro che avevamo già fatto quindi è come è come un ripercorrere una 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 bellissima esperienza ecco eh ecco sono d'accordo con Gartor che ci scrive c'è della tenerezza stasera in effetti non riesco ad immaginare uno scenario migliore di un papà in questo caso un papà speciale perché anche quello che ha doppiato la serie che si guarda questa serie con con i figli bellissima questa cosa già sto piangendo bellissimo ma infatti lui che insomma che è un appassionato che che dice del fatto che è uno dei più grandi personaggi della storia dei videogiochi e secondo me adesso anche della televisione perché questa serie è una delle serie dell'anno ma che dice mio figlio dici sì sì che dice è contento guarda ti riporto perché poi sono poi dipende da come sia chiaramente ma ti riporto il l'espressione che ha usato quando abbiamo visto il trailer che andava in televisione insieme e si è girato che fico e poi è no c'è l'entusiasmo c'è 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 la 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 capacità anche di riconoscere secondo me in lui ma comunque nelle generazioni come la sua la insomma quella che è la 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 bellezza di un di un lavoro insomma riconoscere la bellezza di un lavoro i ragazzini secondo me rispetto a una volta sono molto più svegli da questo punto di vista probabilmente il fatto di diciamo spesso di avere a che fare con i videogiochi e trovare spesso dei giochi riportati su 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 pellicola li porta anche ad aver sviluppato un certo tipo di sensibilità per cui sanno riconoscere una cosa quando è bella e nel mio caso danno molta soddisfazione almeno a mio figlio da moltissima soddisfazione so che all'epoca insomma del videogioco poi uno ci può sempre giocare quindi in ogni momento possa succedere ti sono arrivati tantissimi messaggi tu dicevi non ero forse quasi pronto no a tutto questo aspetto adesso con la serie probabilmente saranno ancora di più perché la serie ancora più trasversale perché veramente la potranno vedere tutti anche chi non ha mai giocato al gioco sei pronto secondo me alla nuova ondata che arriverà forse ancora più grande ma guarda ricevere affetto è sempre bellissimo se mi dica che che magari alcuni dicano no ma insomma sì è vero a volte c'è una sorta di piccola invadenza nella tua vita però veramente la veramente la quantità di effetto è stato io ho ricevuto veramente dei messaggi che mi hanno lasciato anche essere fatto perché tante volte non ti aspetti con qualcosa che tu fai di lavoro possa essere per mille motivi così così invasivo in senso positivo nella vita di alcune persone è veramente o ho letto dei messaggi che mi hanno commosso però quasi e trovavo da un lato esagerati ma poi letti prova provando a leggerli con gli occhi di chi scriveva erano molto più 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 erano molto più chiare non molto più trasparenti e si comprendeva perfettamente il motivo di quelle parole e io mi sento una persona fortunata insomma faccio una cosa bella faccio una cosa che piace ricevo ondate di 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 affetto e di ringraziamento e posso dire solamente grazie ehm noi abbiamo abbiamo poi ripubblicato sul nostro canale youtube le le live che abbiamo già fatto con te in passato e sotto ogni video eh me li sono andati proprio a ricordare i commenti tutti dicevano sì però ehm prima ovviamente del che arrivasse la conferma insomma che saresti stato proprio tu a doppiare gioia anche nella serie eh tutti dicevano sì vabbè però se se non doppia lui cioè io la serie non la guardo no? E e mi unisco alla alla domanda che è arrivata qui che dicevano bella questa cosa che ti hanno fatto doppiare anche la serie di solito negli addettamenti cambiano tutto ecco è verissimo tu volevi doppiare la serie sei stato contento quando finalmente poi hai saputo che potevi farlo io vorrei andare sulla luna ma sai tra volere poter fare una cosa c'è di mezzo un universo per cui mh è chiaro che c'era la speranza però queste sono dinamiche che passano sopra le nostre teste eh io posso pensare che in qualche modo eh posso permettermi di pensare che in qualche modo l'affetto della gente probabilmente almeno un pochino abbia abbia influito mi viene difficile pensare il contrario non che sia stato magari indeterminante però perché ripeto sono ci sono dinamiche che che non ci riguardano hanno gli attori e che devono giustamente non riguardarci però non posso non pensare che tutto questo movimento che si è creato un pochino almeno non abbia influito è un altro motivo per cui dire grazie ecco qua gartor che niente è proprio fan lui ci sta dicendo vabbè la tua performance va verso la luna credo cioè questa era ridicola mi scusi in ah va in tutto il moon ok era una battuta va in tutto il moon moon bellissimo bellissimo scusami gartor per non aver capito l'ironia subito bella effettivamente eh invece ecco eh mi ricollego invece sempre a quest'altra domanda che è arrivata da sono di sorto che dice ma quando si doppia si basa principalmente sul rendere al meglio cosa fa l'attore o ci si immedesima anche nel ruolo che interpreta cioè nel personaggio non so se si capisce la domanda ma sì dai penso che abbiamo capita credo di averla capita perché sono come sai per tu se vado fuori 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 seminato eh riportami sulla retta via eh è un po' un colpa al cerchio un colpa alla botte nel senso che chiaramente almeno no poi ognuno ha il suo il suo modo di recitare la sua tecnica eccetera eh si cerca di si tende a stare dietro al viso agli occhi dell'attore e poi automaticamente si cerca anche di eh considerare quello che è il carattere del personaggio grazie a dio c'è un direttore anche alle spalle che ti aiuta che ti che ti eh indirizza insomma nella giusta direzione per cui però insomma è un po' tutte e due le cose eh non so se perché voi doppiatori quando doppiate spesso vi vi fanno doppiare con vedete soltanto le le labbra no del dell'attore non so se è stato così anche per per questa serie tu vedevi tutto no 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 anche perché sarebbe stato per me pressoché impossibile riuscire a lavorare insomma so che questa qui è una è una a me non è mai successo eh però so di 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 altre situazioni nelle quali è capitato per la sicurezza per eh evitare insomma fughe di immagini di cose eccetera eccetera ma doppiare una bocca eh doppiare una bocca di occhi ma no è impossibile c'è bisogno di di avere un'idea eh di quella che era la situazione di di probabilmente è un limite anche mio però io non sarei capace quindi Sky ha fatto le cose fatte benissimo perfetto perché così ti posso fare la domanda che ti volevo fare come vediamo anche dalle immagini eh i le scenografie di questa serie secondo me sono stupende i paesaggi sono veramente bellissimi eh la natura ma anche poi le le scenografie insomma delle varie città ecco ti ha aiutato questo ti è piaciuto ogni tanto ti è capitato di non so di di interderti un po' in quelle immagini oppure sei professionale sei andato avanti che ne pensi? Se ti distrai troppo poi non sei eccessivamente performante ma no è una cosa che chiaramente man mano eh che che il turno di lavoro va avanti apprezzi spesso sono apprezzamenti condivisi insomma con tutto il gruppo di lavoro con cui dividi no la tua il tuo turno lavorativo eh però io tendenzialmente sono cerco di essere abbastanza concentrato eh anche perché sono facile a distrarmi anche per questo per cui ehm però insomma ehm lo dico io quindi che lo posso dire perché ho guardato anche quello e eh la la cosa bella di The Last of Us è che unisce un po' tanti immaginari e nella serie senza fare spoiler ovviamente ho sentito forte quasi più la componente western diciamo eh ci sono le immagini di loro due che parlano no magari davanti a un fuoco che sono sono bellissime e e quindi ecco a te è piaciuta anche questa parte più sappiamo insomma che ci sono dei sopravvissuti eh c'è il fungo però c'è anche questa parte un po' ti posso ti devo no ti devo bloccare nel senso che eh e questo posso dirlo perché è la verità insomma io non ho finito la lavorazione sto lavorando per cui eh le cose di cui mi parli io me le ricordo perché ho memoria di quello che ho fatto anni fa e però non le ho ancora viste in questa in questo caso qui per cui nel momento in cui arriveranno ti scrivo però ok ci risentiamo poi va benissimo e invece ecco allora perché poi non vorrei troppo sbilanciarmi troppo ovviamente perché la serie poi la dobbiamo guardare tutti insieme dal 16 gennaio su Sky Atlantic e in streaming in esclusiva su Now la cosa tragica è che adesso siamo tutti abituati no al binge watching invece qui sarà no settimanale rilascio e secondo te è bella questa cosa perché in realtà così cioè io che ho visto le puntate posso dire che ognuna è super intensa è super no densa di significati di cose di immagini ecco quindi secondo me è meglio che uno se la godrà nel tempo perché così veramente si può dare il giusto peso a ogni episodio tu che ne pensi però ma riguarda che cosa perdonami al fatto settimane che così uno se la potrà godere di più anche meglio e anche per essere meglio il lavoro che avete fatto con i doppiatori guarda io sono una di quelle persone che per esempio ci sono delle piattaforme che sai che caricano tutte le serie e tutte le stagioni per cui ti puoi fare una nottata e fai la maratona e ti guardi tutta una serie in fila che non so 10-12 episodi in fila io sono assolutamente probabilmente sarò vecchio ma io preferisco di gran lunga centellinare per cui uno barra due episodi a settimana dopodiché fai sedimentare e ti crea anche l'attesa ti crea la voglia no nel momento dall'appuntamento io la vedo così quindi sono assolutamente a favore di questa gestione allora intanto qua facciamo vedere che il risorto quindi una voce autorevole ci dice che voce incredibile grande nome assolutamente ci sta creando hype sì sì ma già solo per sentire la la voce di Lorenzo assolutamente e cosa ne pensi di quelle persone che lo so perché l'ho visto scritto in giro sotto i video su youtube che si sono riascoltati il cioè il tuo doppiaggio di alcune frasi o di alcuni dialoghi di The Last of Us il gioco ovviamente perché la serie ancora non è uscita tipo centinaia di volte c'era gente che diceva io ho risentito questa frase che adesso non posso ripetere perché sarebbe spoiler cento volte cioè che effetto fa ci sono allora ci sono delle frasi sicuramente che per la situazione per il contesto per l'atmosfera perché arrivano in un finale intensissimo perché arrivano a un certo punto dove ti commuovi e senz'altro entrano nell'immaginario collettivo ci sono io da bambino non c'erano ovviamente non c'erano i ancora i video registratori all'epoca e per dirti e io registravo con il registratore con le cassette nastro gli audio dei film e dopodiché io andavo letto e mi riascoltavo tutto il film fino ad addormentarmi ascoltando evidentemente soltanto le voci e c'erano dei passaggi in talunni film che io facevo andare avanti e indietro avanti e indietro avanti e indietro quindi capisco perfettamente il fatto che una persona si innamori di una frase di un concetto e ami sentirlo ci sono anche cose molto più recenti in alcuni film dei quali io non ci sono e non a cui non ho preso parte ma che adoro e un paio le ho anche come suonerie sul telefono per cui è tutto dire insomma credo che faccia parte della di quello che siamo dentro di quello che ognuno di noi è dentro e a seconda di come siamo prendiamo contesti diversi momenti diversi frasi diverse e le facciamo nostre in qualche modo no? Allora qua c'è Antode che dice bravo Lorenzo la penso come te sulla fruizione settimanale forse perché siamo coetanei bellissimo e invece Gartwork dice io ho iniziato a giocare seriamente a The Last of Us proprio pochi giorni prima del lockdown in medesimazione totale e mamma mia sì era il momento giusto forse allora è sempre Antode si dice bellissima questa cosa praticamente un audio film di cui potevi immaginarti le immagini sì in realtà era mancanza di alternative anche perché io giravo in continuazione mio papà quando ne parliamo a volte me lo ricorda e c'era questo nannerottolo che camminava con il registratore che andava a pile con la cassettina dentro per cui registravo chiacchierate a casa la nonna il papà e poi quando c'erano i film mettevo giù al televisore e registravo tutto quanto il film bellissimo altro che gli audiolibri no adesso gli audio film bellissimo questa cosa ci dovremmo pensare effettivamente brevettiamola non so se esista già e invece a proposito di audio di ascoltare nella serie ritorna la colonna sonora di gustavo santo lalla che è un premio oscar quindi vabbè insomma parla per lui la colonna sonora sì sì l'ho scaricata l'ho comprata sì 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 questa della serie quella nuova no della del videogioco sì quanto importante quanto è stato importante quella colonna sonora non so se l'ascoltavate voi per prima del doppiaggio come qual è stato il tuo rapporto con la colonna sonora sì al gioco la vecchia lavorazione abbiamo lavorato su quel prodotto esattamente come se fosse un film quindi aveva e che è una cosa era una cosa assolutamente rivoluzionaria dieci anni fa nove anni fa quasi per cui avevamo base musica effetti tutto il montato il video tutto girato e montato è stato esattamente come se si trattasse di un doppiaggio di un film ognuno ha la sua sensibilità ognuno ha suo modo di dividere i momenti le situazioni e di recitare e di emozionarsi io amo spesso dire che la musica una quando una musica è particolarmente avvolgente particolarmente emozionante ti fa calare pienamente nella siti in una certa situazione ti aiuta almeno per il 70 per cento del lavoro che devi fare e e questa è esattamente una di quelle situazioni e per quanto riguarda dell'astrovas devo dire che anche tanti silenzi erano risuonavano esattamente come in certi altri passaggi la colonna sonora della dell'ideogioco e però no la musica se parere mio è fondamentale e sei contento quindi che vedi sono stati molto filologici per la serie non ripreso la tua voce hanno ripreso anche la il compositore originale ecco sei felice che sia lo stesso compositore secondo te era una scelta giusta assolutamente sì per una questione anche di continuità assolutamente sì eh qua ti fanno una domanda tecnica interessante chiedono se in sala di doppiaggio c'era c'erano anche i rumori della natura o i muri rotti insomma per immaginarsi meglio le cose cioè i sound effects insomma no in in colonna sì in cuffia avevamo tutto quanto tutto quanto eh ovviamente non dal vero le sale erano ben curate per cui non c'erano muri mezzi distrutti o o rampicanti che ti passavano intorno e sopra la testa no no comunque ripeto era esattamente come quando lavori su un prodotto filmico qualunque insomma nella stragrande maggioranza dei casi hai tutto quanto a disposizione che ti permette ovviamente di immedesimarti meglio no e quindi mh l'ho detto tante altre volte quindi so che mi ripeto ma io credo che e penso di poter parlare anche a nome dei miei colleghi che hanno lavorato a questo a della sua base io credo che per quanto riguarda il videogioco nello specifico il fatto di poterci lavorare come se fosse un film ha sicuramente contribuito a metterci nelle migliori condizioni e ci ha permesso di rendere al meglio eh era la situazione migliore nella quale ci si poteva trovare a lavorare e sicuramente una parte del dell'ottimo risultato è di peso anche da questo a proposito di sound effects ci sono certi suoni no che nella storia del cinema e della televisione poi rimangono particolarmente impressi non soltanto una voce o o un dialogo insomma e qua nella stovas che è ripreso perfettamente nella serie c'è il suono caratteristico dei clickers no che che riprendono questo suono come insomma che dà anche il nome alle creature i clicker sono questo no questa cosa così ecco tu te lo sogni la notte visto che sono dieci anni che lo senti com'è stata un po impressionato da suggestionato no 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 però molto spesso li vedo la mattina in metropolitana quando non vado a lavorare in scooter li vedo in metropolitana li vedo tante no comunque no certo non sono piacevoli sono a livello di immagine estremamente tutti entrano sotto pelle sono molto fastidiosi per questo dico che sono perfettamente riusciti nel loro intento quindi ma no non li ho mai sogno poco peraltro e quando sogno è sempre una festa ogni volta che mi svegliano bene le palle beh meglio così effettivamente meglio così e invece arriviamo al cuore della della serie che dicevamo all'inizio sono questi due personaggi e il loro rapporto no ecco secondo te perché c'è c'è così bisogno nei videogiochi perché anche god of war praticamente così questo rapporto padri figli no perché cerchiamo così tanto questi padri eh nei videogiochi ma anche nelle serie penso ad altre serie oppure ce ne sono tanti no di padri e questo di della sua fase è particolarmente emozionante eh perché vogliamo vedere questi padri compiere poi delle scelte difficilissime siamo anche un po statici nei confronti di questi padri già essere genitori è difficile poi fare certe scelte non lo so com'è insomma per te la domanda non è semplicissima premessa di noi ovviamente ci schieriamo per quella che è l'offerta che arrivano da da questo tipo di prodotti e poi capita sì effettivamente spesso che ci siano come soggetti dei padri o delle madri a seconda insomma ma comunque il rapporto genitori sono sono molto scontato ma io immagino che quando una cosa viene cavalcata più volte perché c'è una risposta da parte del pubblico e ci sono dei dati che indicano che come soggetti sono soggetti che rendono a livello di interesse a livello di attenzione di richiamo confronti del pubblico dopodiché non ho argomenti per poter dire che magari il rapporto genitori figli in questi ultimi decenni come dire non se ne sia parlato particolarmente ma sia tornato in auge proprio attraverso i videogiochi e poi i film io questo non lo so però è evidente che probabilmente in tutte le situazioni quelle anche un pochino più estreme anche quelle più normali la questione del rapporto con i propri genitori o a seconda con i propri figli in tutti noi rivesta un interesse particolare sia anche soltanto questione di fare magari paragoni o mettersi semplicemente nei panni di qualcun altro e dire avrei fatto così non avrei fatto così sì no e ora che ci sono sono sicuramente dinamiche molto interessanti però molto complesse sicuramente sono di richiamo certamente sono di richiamo e poi tu dici avrei fatto così non avrei fatto così questa è una serie che in ogni puntata ci sono almeno tre quattro momenti in cui si dice oddio ma io che cosa avrei fatto io che avrei fatto esatto è questo il bello di di questa serie di The Last of Us e ovviamente anche eh del gioco ehm non facciamo spoiler ovviamente e non sono mai risposte semplici cioè ogni volta uno ci pensa ci ripensa esatto what if ci dicono esattamente esattamente esatto e e ti volevo chiedere visto che già la domanda di prima era difficile te ne faccio ancora più difficile perché una delle domande della serie è anche eh cosa significa essere un buon padre ehm ecco te lo chiedo a te Joel un po' ci ci ha fatto pensare che cosa hai hai preso da lui insomma per rispondere a questa domanda se si può rispondere no da da lui non ho preso niente quello che ho provato magari a dargli in realtà quando sono diventato papà io ho la fortuna di avere ancora il mio di papà però quando diventi papà io quando sono diventato papà ho detto oddio cosa faccio perché in realtà mi sono accorto che avevo molti molti più dubbi e incertezze che non garanzie sicurezza di sapere o meno fare qualcosa e mh ho cercato la domanda più più la risposta più che mi viene più spontanea è che ho cercato di dargli quello che era il mio cuore inteso il mio il mio essere persona calandomi nei panni di quello che è un eroe anti eroe ehm nei suoi panni ho cercato di di trasmettergli quello che avrei fatto io insomma ehm non so se ho fatto bene o male so che nella maggior parte dei casi la cosa è stata apprezzata quindi probabilmente non ho sbagliato via però è una domanda in effetti ancora più difficile cercato di trasmettergli un pochino di quella di quello che è la mia il mio ero sono il mio essere grande grande nel stesso persona grande e sicuramente gli ho trasmesso quello che sono i miei sentimenti i miei sentimenti nelle varie situazioni che si sono alternate sì perché diciamolo perché non l'abbiamo detto dando per scontato che tutti conoscono la storia di The Last of Us ma diciamo che eh c'è una pandemia c'è un fungo terribile che contagia le persone ehm ci sono dei sopravvissuti Joel è uno dei sopravvissuti che deve portare una ragazza Ellie insomma adolescente in un certo posto per fare una certa cosa e ci vediamo qui no perché magari non tutti conoscono la storia e quindi sì cioè tra loro non sono esattamente padre e figlia ma si instaurano a questo tipo di dinamica e vediamo che poi il loro rapporto passa varie fasi no all'inizio lui le insegna delle cose quindi essere un buon padre potrebbe essere dare gli strumenti no ai più giovani di di fare le cose poi a un certo punto diventa protettivo e poi a un certo punto no si si va sui massimi sistemi che qui non svegliamo per cui lo sto facendo delle domande non è che volevo psicanalizzare il buono no no la cosa la cosa sicuramente bella è il il comunque il rapporto che si viene a creare e nasce in realtà una grandissima tragedia perché nasce molto 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 tempo prima da quello che succede in quella fatto in quel fatto specifico in quella situazione specifica con quelle persone esatto ci siamo capiti bello parlare così eh esatto esatto e invece ecco eh è è incredibile lo diceva qua un ragazzo prima ce lo diceva in chat ehm nel frattempo dell'assovas appunto è uscito dieci anni fa nel frattempo c'è stata veramente una pandemia noi siamo stati veramente chiusi in casa e questo fa abbastanza pensiero esatto quindi è stato abbastanza profetico il gioco secondo te la serie adesso come verrà accolta visto che abbiamo anche una consapevolezza diversa rispetto a quando è uscito il gioco secondo te è proprio il momento giusto per anche rielaborare un po' questi anni difficili che abbiamo passato qui ci innerpichiamo secondo me in un territorio che è estremamente delicato quello che abbiamo vissuto è in realtà schifosa ma realtà e io credo che quello che facciamo noi a detti ai lavori e comunque i film in senso generale le serie servono al pubblico per staccare con la realtà sì è vero ci sono dei paralleli anche che si possono portare avanti la situazione in questione con quello che è successo e si sta via via per fortuna sta via via andando a scomparire però in realtà non deve per forza avere l'obbligo di farci pensare o di riportarci a quello che è stato secondo me il cinema la televisione hanno l'obbligo di distrarre e di emozionare magari di far prendere paura perché situazioni di questo tipo chiaramente di far pensare ecco sì di far riflettere ma non credo che ci sia un momento più o meno indicato in relazione al fatto che noi nella nostra vita tutti quanti abbiamo vissuto una situazione drammatica come quella che abbiamo vissuto anzi seppur con dei parallelismi io tendo sempre e spero sempre che quello che facciamo tenda in qualche modo a far dimenticare anche se ripeto ha dei punti in comune molto grossi emozionarsi lo dicevi tu ci si emoziona tanto poi in realtà la serie anche molto molto divertente cioè ci sono un sacco di battute veramente divertenti tra tra loro due sono molto ironici joel ed elli nella serie ma anche insomma poi nel gioco quindi è bello anche che ci sia questa parte più leggera no più di umorismo anche ma perché giustamente si mette in risalto quello che il rapporto che si viene a formare tra i due il rapporto che non è di un papà con una figlia ma di una persona grande una persona piccola entrambi rifiutano ma entrambi accettano entrambi vogliono questo tipo di relazione questo tipo di rapporto quando c'è ironia quando c'è comunque spirito secondo me è sempre sempre un valore aggiunto soprattutto nella realtà me ne me ne sono accorto nel momento in cui un giorno mio figlio mi ha detto una cosa io non l'ho capita e lui mi ha detto era una battuta e io ho capito che aveva sviluppato il senso dell'ironia per cui a quel punto ho detto sì è molto più figo così bellissimo invece tornando tu prima dicevi che è stata un po una cosa rivoluzionaria doppiare il videogioco come se fosse un lungo film qua c'era una domanda infatti che voleva andare più nello specifico ti dicono cosa ne pensa della fusione cinema e videogame se è cinema se si va verso una fusione tra cinema e videogame oppure se rimarranno sempre due forme d'arte differenti cosa ne penso allora intanto spero di aver capito anche qua la domanda da un punto di vista tecnico i video i videogiochi ormai stanno raggiungendo dei livelli di perfezione di bellezza di 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 specificità assoluti il fatto che ci sia connessione con il cinema beh devo dire che è una cosa abbastanza automatica nel momento in cui un titolo ha un grandissimo successo il fatto di produrre un lungometraggio o una serie come in questo caso credo che sia un qualche cosa che viene quasi spontaneo fare a chi di dovere visto che il titolo in origine ha avuto grande successo quindi da questo punto di vista credo che probabilmente in futuro aumenteranno i titoli dei videogiochi di grande successo e di conseguenza anche i titoli di film tratti dai videogiochi oh fatemi dire una cosa adesso perché diciamo che gli adattamenti di film e serie dai videogiochi non sempre sono eh fortunati diciamo così devo dire che questo secondo me è veramente uno dei degli apici del del passaggio da dai videogiochi a a serie o film veramente è stato fatto un lavoro incredibile e non credo sia un caso eh che in realtà lo stesso eh autore eh Neil Druckmann ci abbia lavorato perché eh diciamo che lui sta sta lì è showrunner ha scritto quindi ehm non è non è un caso e come diceva giustamente Lorenzo ormai gli sceneggiatori migliori alcuni degli sceneggiatori migliori stanno proprio nei videogiochi e nelle serie tv quindi questa fusione era era inevitabile anche da lì esatto e secondo me era proprio infatti volevo chiederti che ne pensi secondo me era più adatta proprio una serie per una storia come The Last of Us che non un film no perché per tanto tempo si era parlato di un film invece secondo me la serie è più adatta tu che ne pensi? Eh che è una questione di gusti eh nel senso che io sono d'accordo assolutamente con quello che dici ma mh per quello che mi è possibile immaginare credo ci siano anche qui delle eh delle motivazioni che magari noi non prendiamo in considerazione ma che invece chi di dovere fa e quindi sa se è più conveniente produrre un lungometraggio piuttosto di un seriale noi andiamo chiaramente a pelle a gusto eh questo titolo lungometraggio film questo titolo no no qui serie andiamo per quello che è il nostro piacere personale quello che secondo noi è la cosa più giusta ma immagino che ci siano questioni ovviamente anche economiche eccetera eccetera che determinano poi la scelta alla fine l'uno o dell'altro. Beh te così ti tocca lavorare di più perché per nove puntate. Meglio. Esatto. Meglio. Esatto. Eh io invece allora visto che stiamo parlando di film e cinema faccio vedere al volo un minuto che mi hanno mandato penso a Sky ma mi hanno mandato a Londra l'anteprima eh era l'anteprima immersiva si chiamava fondamentalmente c'era un po' di allestimento facciamo vedere al volo questa cosa ecco qua ce l'abbiamo fatta ho trovato la proiezione della sua vasa a Londra non è stato semplice fatto col cellulare ragazzi sì quindi è in verticale fate velo dire non sono incoraggiante Ahahahah Qua Velocizzato Questo sa anche nella serie Il poster E insomma Era un bell'allestimento Devo dire la verità Apocalittico C'era Fedra dappertutto Quindi lanciamo l'RM Esatto ho fatto questo E adesso linea allo studio Esatto A parte questo Ringraziamo Sky Che insomma ci hanno fatto andare Anche questa cosa E torniamo invece alla serie Torniamo invece alla serie E Il Allora Dio che qua Adesso Attenta a quello che dici Eh no Aiuto Sto guardando tipo In realtà voi non lo vedete Ma un laser Con scritto Sky Puntato alla tempia E non posso dire cose Allora La prima serie Diciamo che rispecchia Il primo videogioco Diciamola così Ecco Io sono sicura che questa serie Verrà riconfermata per una seconda stagione E c'è un secondo videogioco Ecco Tu sei pronto a No? A riaccettare la sfida Anche quando sarà Sì certo Ben chiedere il domando Un be' certezza Assolutamente sì Io non metterei le mani avanti Nel senso che ho imparato Che nella vita Non si sa mai Per cui È certo Come San Tommaso No? Devi toccare con mano E quindi Speriamo che sia come dici Se sarà Bene Meglio Perfetto Perfetto E allora Qua dice Per non fare spoiler Parlate del gioco Ma cosa che la serie È molto fedele al gioco In cassaforte L'abbiamo messa così Ragazzi No veramente È molto fedele Cioè Chi ha giocato Ecco Allora Facciamo questa domanda Perché in realtà Nella serie Ci sono anche Delle no Delle digressioni Siccome ovviamente L'esperienza Del gioco individuale Non può essere riportata In una serie Che ha proprio Dei ritmi Dei Dei sistemi diversi Narrativi proprio Ci sono degli approfondimenti Su altri personaggi Che non vi dirò Ovviamente Scopriamo più cose Ma hai detto Che non le hai fatte Ancora tutte Però Penso qualche episodio Già l'hai visto Al tre ci sarà arrivato Il tre è tutto Di approfondimento Su Su un personaggio Tu sei stato felice Di questa scelta Che Ci sono Scopriamo qualcosa In più Rispetto al gioco Se vuoi abbozzo Nel senso che La verità è che Non ci sono ancora Arrivato Una Ne hai doppiata Scusa Posso dirti Però Però in senso assoluto Sì In senso assoluto Sono A me piace Quando si approfondiscono Personaggi Passami L'espressione Secondari Che non vuol dire Come importanza Ma come rilievo All'interno della storia Anche perché è giusto Secondo me Che Più spazio si dà Anche ad altri personaggi Più il pubblico Ha la possibilità Di avere Un'idea di insieme Molto più Completa Molto più profonda Quindi assolutamente sì Certamente sì Bello Bellissimo Qua Sto proprio sudando freddo Comunque Secondo te L'umanità Che c'è in The Last of Us Ecco Che ci dice Di noi Perché Secondo me Uno dei punti di forza Del gioco E quindi anche Della serie È che c'è Veramente di tutto Vediamo come Si può reagire In modi diversi A certe cose L'umanità Varia Di The Last of Us Che ti ha lasciato A te Che cosa ci dice di noi Sky ti osserva Esatto Che mi ha lasciato Fondamentalmente Che Per provare A risalire Bisogna sempre Arrivare quasi A toccare il fondo Tanto per cominciare Che cosa mi ha lasciato L'esperienza Di The Last of Us Che comunque Secondo me Certi principi Certi Sentimenti Nella finzione Come nella vita Nella realtà Di tutti i giorni Non cambiano mai Secondo me Anche qua Ripeto Lo so che Tantissimi hanno giocato Al primo episodio Però Essendoci Come dire In In prossima uscita La stagione La prima stagione Evito Di 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 Rammentare Come finisce Il primo episodio Ma sicuramente La posizione Che prende Joel Alla fine Del Del primo episodio È Forse Politicamente Scorretta Ma assolutamente Condivisibile Molto molto male Per carità Non la diciamo Però Però sì Sono Parlavo del video gioco Sì sì Sono assolutamente D'accordo con te E anzi Una cosa Che ho pensato Proprio guardando La serie È bellissimo Come abbiano reso Quella sensazione Costante No Del Del fatto che I personaggi Devono sempre decidere In pochi minuti Se fidarsi o no Di chi hanno di fronte No Perché questo Vabbè Lo dobbiamo fare tutti Nella vita Poi in una condizione Come quella Di The Last of Us È accentuata Ovviamente La cosa E Joel e Ellie Sono due personaggi Che proprio decidono Di fidarsi No Tra di loro Ecco A te Ti commuove Questa cosa A me ha commosso Tantissimo Che in realtà Loro nonostante tutto Decidono No Di Di fidarsi Di aprirsi L'uno con l'altra Credo che la situazione Sia quella Che determina Il fatto di Decidere in pochissimo Io sono una persona Per esempio Che ci mette molto Ecco Proprio perché Dò molto peso Ai rapporti Eccetera eccetera E comunque È chiaro che Se in realtà Ti trovassi Ad avere a che fare Con persone Devi pesarle Lì per lì E quindi Anche questo Credo che sia Un aspetto Molto umano Che viene Ripreso E riproposto Nella Serie tv Dipende da come si è fatti Poi alla fin In fine Ripeto Io sono Ci metto un po' Ho imparato Anche lì L'esperienza Mi ha portato A prendere un po' Di scopole Quindi sono Un po' Più Tignoso Però L'obbligo Di decidere In poco Sicuramente Accresce anche Il pathos All'interno Della storia Non hai tempo Neanche tu Spettatori Di capire Ha fatto bene No ha fatto bene No no Ha fatto bene Però Io parlavo Sì A parte la rapidità Parlavo anche Del fatto che Come sappiamo Noi che sappiamo Ci sono Diciamo persone Che invece A loro non importa Molto Il destino Dell'umanità Pensano soltanto A se stesse Invece Loro due Comunque Ci provano A vedere Un futuro No Anche se Magari Non sono sicuri Che lo vivranno Ecco Quanto è importante Questa cosa Secondo te Riuscire a immaginarsi Un futuro Anche se poi Non è detto Che noi lo vivremo Però comunque Continuare a provarci Parli nella realtà Sì sì Perché poi anche Uno dei temi Dell'ultima puntata Della serie Cioè Immaginarsi il futuro E quindi impegnarsi Per farcela Anche se poi Magari non lo vivremo Insomma Invece di dire Basta mi arrendo Rimango qui Sai Credo che sia una cosa Nella nostra vita Quindi Parliamo del reale Che nasce anche Da quello che abbiamo Intorno Io nell'ultimo anno Se mi guardo Intorno A livello globale Non è che abbia Riponga una grandissima Fiducia Nell'umanità Onestamente È un mio pensiero Personale Guerre Morti Distruzione È un discorso Estremamente amaro Me ne rendo conto Per cui Quindi ci si augura Che si vieni Verso Una condizione Un pochino migliore Nella realtà Io Io credo che Molto del nostro pensiero Nasca Per forza di cose Da ciò che noi Ci accorgiamo Di avere intorno Per quanto mi riguarda Al di fuori Della famiglia Al di fuori Insomma Diciamo Del tuo Piccolo giardino Quello che vedo In senso Molto più grande Non mi dà In questo momento Una grandissima fiducia Anzi Sono qua che faccio Il tifo Grandissimo tifo Aspetto Miglioramenti Anche piccoli Anche Soltanto segnali Non siamo incoraggianti Stasera No Però un conto Se vuoi raccontare Una storiella E un conto Se vuoi parlare Di quella che è la realtà No certo Chiaramente Ripeto È il mio pensiero La volontà è quella Di pensare Che succeda Presto La speranza è quella Però In questo momento Sì È un momento amaro Infatti Cagnette Mi siete andati in depressione In effetti Esatto Oppure concordo Esatto 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 Noi siamo molto fortunati Noi Noi quattro No certo Certo E invece Dai In conclusione Perché Poi ti lascio andare Alle dieci Liberi tutti Tra l'altro Non so nemmeno cosa stiano facendo Napoli e Juventus Perché Non sei tifoso Infatti ho detto Mi ha detto di sì Perché non è tifoso Evidentemente Io Non del Napoli Sì Non del Napoli Della Juve Non del Ho simpatia per il Napoli Un pochino meno per la Juve Perché io sono interista Ok Perfetto Però 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 Poco poco di meno Insomma Non sono Non Non sono di quegli estremi Perfetto Invece ecco Parliamo anche Della componente Uno dei componenti più interessanti Secondo me del gioco Che è stata ripresa nella serie Ovvero Mandare messaggi Tramite I generi Musicali Io sono felicissima Che sia rimasta questa cosa Anche nella Nella serie tv E E C'è il genere anni 80 No Che Che dice una certa cosa Ecco Ti piace questa cosa E tu Per Per segnalare il pericolo Invece Che genere useresti Per segnalare il pericolo Una situazione di pericolo Sì Sì Perché nella serie No Viene utilizzato un certo Una certa corrente No Di Di musica Dalla radio Sì 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 Guarda Sai che è una cosa A cui non ho mai pensato Di ricondurre Un genere musicale Alla Alla Sì A una situazione di pericolo Veramente non saprei risponderti Io sono Sono un amante Sono un amante Probabilmente di una Di una stretta tipologia di musica Che è la musica Quella degli anni 80 Principalmente E quindi Grandi gruppi Grandi complessi E quindi Pinfloid D'Aria stress Di D'Aria stress Gio 2 Forse qualche cosa Di Pinfloid Se dovessi indicare Una situazione di tensione Sì Sì Probabilmente sì Bellissimo Bellissimo Sì perché nella serie No Fate attenzione alle radio Cioè era anche nel video Che ho mostrato Non si sentia forse bene Dal video che Che ho fatto vedere Ma da una delle radio Usciva della musica anni 80 E la musica anni 80 Sta anche nel trailer Nel trailer Nel trailer C'è un richiamo Che è Fichissimo Fichissimo Di un gruppo musicale Che adoro Esatto Qua lo dicono È proprio quella È proprio quella Bravo Siete attenti Siete molto attenti Bravi Intanto ci aggiornano Che il Napoli Sta vincendo Così Comunicazioni di servizio Allora Allora Mi sa che ti faccio L'ultima domanda Che vedo Che è anche bella Lunga E secondo me È anche complicata Così proprio Capito Eh vabbè Ma allora Mi volete male Duitelo Allora Sono in sorta Chiede Secondo te Una serie fatta così bene E che Si speri Considerando il successo Del videogioco Possa avere un successo Analogo Analogo Può aiutare A sensibilizzare la gente Su certe problematiche Della società Oppure L'uomo medio Finisce di vederla E ritorna a pensare Le solite cose Come al pantacalcio Noi abbiamo aggiornato Su Sul campionato Quindi Ti ho risposto Ma prego Prego Io non vorrei Che uscisse Il lato pessimista Mio Io Rivadisco Quello che ho detto Prima Secondo me La fiction Il cinema La tv Sono strumenti Che devono essere Sfruttati Dalle persone Per evadere Dalla realtà Poi Certo Sono convinto Che in molte persone Rimanga comunque Qualche cosa Però è anche vero Che è il sistema Che ti deve portare A ragionare A livello collettivo Su determinate difficoltà Non può essere La persona comune Che come dire Che crea Grandi bacini Con punti Di interesse In comune Che partono Magari da una serie Televisiva Faccio per dire È il sistema È il sistema Della nostra Collettività Che dovrebbe Portarle Come soggetto Di discussione Sicuramente Quello che Altrettanto Penso Che siamo Molto meglio Noi Civiltà Rispetta Come un certo Tipo di Situazione E di condizione Ci tende A tenere E E a conservare Ecco Non so se mi sono spiegato Perché sono veramente Stanchissimo Però Però che il pensiero Sia minimamente Comprensibile Sì sì E qua dicono Anche bella risposta Concordo Quindi assolutamente Si è capito No no Si è capito assolutamente E ragazzi Allora La serie Non possiamo dire Molto di più Poi ne riparleremo Approfonditamente Quando usciranno Valentina Dillo quanto è difficile Parlare di una cosa Senza parlare di quella cosa Difficilissimo Perché guarda che tante volte Veramente È complicato Veramente complicato Immagino voi Che pure avrete firmato No Accordi di riservatezza Col sangue Quindi No ma lo sappiamo Insomma Non è una novità Per cui La paura di dire Veramente che scappi Anche in volontarimento Una cosa Cioè E quindi Tante volte Tanti belati Tanti Sono per dire Oddio Come l'intervista Delle Iene Dove tagliano i pezzi Esatto Vuoti E ti lasciano solamente Il commento No comunque Anche se Dovevamo un po' Camminare sugli specchi Sei stato fantastico Infatti ti dicono Lorenzo Te se vuole bene Con proprio Con l'effetto Doppler E comunque La serie Lo dicevamo Forse non si è capito Tantissimo Perché non potevamo Fare spoiler Ma sicuramente È emozionante Ci sono un sacco Di generi In uno C'è un rapporto Tra i due personaggi Perciò che è bellissimo Una grande colonna sonora Grandi paesaggi Si ride anche Quindi non è solo Una roba Poi è grande Intrattenimento Cioè non l'ho detto Ma il ritmo È incredibile Cioè veramente Ogni puntata Ci sono colpi di scena Rimani incollato E poi c'è la voce Di Lorenzo Scattolini Quindi insomma Cioè voglio dire Possiamo sicuramente dire Che se è piaciuto Il gioco Non può non piacere La serie Esatto Perfetto Hai detto tutto tu Io vi ricordo solo Che la prima puntata Che è bella lunga Sono 92 minuti Se non mi sbaglio Dura un'ora e mezza Tipo un film Arriva su Sky Atlantic Mi raccomando Atlantic Segnatevelo bene Sky Atlantic Il 16 E poi in streaming In esclusiva Sono Nao TV E sono anche Contemporanea Con gli Stati Uniti Quindi No Non bisogna nemmeno Aspettare Quindi Perfetto Perfetto Intanto c'è stato un gol In chiusura Proprio per Per salutarci Credo del Napoli Perché prima Questo ragazzo Ci aveva detto Il Napoli Sta vincendo Quindi E il campionato Si chiude Allora E allora Esatto Lorenzo Io ti ringrazio Tantissimo Grazie veramente Grazie a voi Che avete fatto Un sacco di domande E anche complicate Quindi bravi Nonostante la tarda ora Perfetto Chissà che cosa ho detto Questa cosa ho detto Questa è bellissima Comunque con una voce stupenda Perfetto Grazie mille Allora Grazie infinite A presto Ciao Buona serata Ciao Grazie a tutti